Ciao a tutti, sono Nicola Fornaciari, sono il CTO di Madisoft e ho appena finito di registrare una puntata del CTO in show con Alex. È stata un'esperienza veramente interessante, veramente stimolante e insomma vi invito anche a vedere la puntata del CTO show in cui abbiamo parlato del recruiting di personale tecnico. Consiglio di vedere lo show sicuramente a chi si occupa di management, team leading, CTO in ambito tecnologico ma anche a chi lavora in imprese in ambito tecnologico perché comunque penso che possa essere interessante anche capire come funzionano i processi aziendali. Vi invito ad aderire alla community perché comunque è molto interessante, ci sono contenuti che valgono la pena di essere guardati e eventualmente appunto si può fare anche in qualche modo gruppo all'interno di questa. Saluto a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!